Ciao ragazzi, oggi voglio mostrarvi un articolo che ho acquistato di recente e che mi è piaciuto molto poiché ha delle buone specifiche tecniche e un costo molto contenuto poiché lo trovate su Amazon a circa 170-180 euro circa, non di più comunque è un display portatile da 13,3 pollici con pannello IPS molto luminoso e con colori veramente brillanti è dotato di speaker integrati, una porta USB per poter collegare dispositivi wireless come tastiere, mouse e altro ha la possibilità di collegare i dispositivi tramite l'HDMI o due porte Type-C non ha la batteria interna, però comunque se lo alimentate attraverso la connessione Type-C a un dispositivo sfrutterà la batteria del dispositivo al quale è collegato oppure potrete in alternativa collegarlo con il cavo Type-C con il suo alimentatore che viene fornito nella confezione alla presa di reto o a un power bank e quindi utilizzare quello per alimentarlo la marca Labitz non è tra le più famose come avete potuto notare però comunque è un pannello IPS comunque con degli speaker l'unica cosa che non mi è piaciuta è il fatto che è un 60 Hz avrei preferito un 75 Hz però comunque è un dispositivo che potete utilizzare con qualsiasi cosa come monitor collegandolo al vostro notebook per estendere il monitor e quindi avere due monitor e quindi lavorare meglio, aumentare la vostra produttività come ho fatto io in questo caso che posso spostarmi tranquillamente tra un'applicazione e l'altra a schermo e non avere problemi quindi avere più applicazioni suddivise su più monitor e quindi lavorare tranquillamente svolgendo più attività simultaneamente quindi è una cosa a mio avviso utile utile soprattutto perché essendo portatile e quindi molto sottile lo potete tranquillamente portare in giro con voi e quindi poter lavorare anche quando siete in giro in maniera molto comoda la porta USB ho detto che la potete utilizzare per collegare un mouse come ho fatto nel mio caso gli speaker non sono potentissimi ma comunque garantiscono un minimo parliamo tipo quello che trovate sui tablet o sui vostri smartphone quindi non molto potente però comunque tranquillamente usabile se non volete ascoltare usare l'audio degli speaker potete tranquillamente collegare delle cuffie tramite jack che abbiamo qui lateralmente avrei preferito un telecomando per gestire il menu ma invece troviamo qua tre tasti di cui uno per abbassare il volume e alzarlo e il tasto centrale che funge da tasto multifunzione poiché permette di entrare nel menu gestire le varie opzioni e quindi funziona sia da menu che da tasto ok per scegliere appunto l'uscita questa cosa qui non l'ho tanto gradita perché è un po' scomodo molto spesso si sbaglia a pigiare il tasto e quindi si esce continuamente dal menu è un po' diciamo fastidiosa come cosa però per il resto ripeto l'ho utilizzato sia per giocare con la playstation ho provato a collegare varie console ho provato a collegare il notebook ho collegato il mio smartphone e ho usato la modalità dex senza problemi totalmente compatibile per vedere i film è comodissimo perché comunque il monitor il pannello IPS è molto luminoso quindi bei colori quindi nel complesso posso dire che è un articolo valido visto il prezzo perché la concorrenza Asus e altre marche più famose vi danno un prodotto del genere sopra i 250 euro 300 euro che diventa un prezzo un po' proibitivo a questo punto non ha più senso investire 300 euro per un pannello da 13 pollice e 3 cioè quando tranquillamente con la somma lì possiamo acquistare un monitor che ha specifiche sicuramente superiori a questo magari con un frame rate più elevato posso dire che la dotazione con la quale arriva è molto completa perché nella scatola troviamo la scatola è molto curata nei dettagli troviamo all'interno una cover calamitata come questa qui che ho dietro troviamo la base di appoggio in plastica che vi permetterà di tenerlo un cavo Type-C per la ricarica con l'alimentatore e un cavo Type-C per collegarlo al vostro notebook cellulare qualsiasi dispositivo che è compatibile col Type-C ho provato anche a collegarlo a un altro dispositivo ora vi faccio vedere l'ho collegato al mio mini desktop A300 e anche in quel caso mi sono trovato davvero bene come vi dicevo l'ho collegato al nostro caro amico A300 ho fatto un video dedicato a lui un dispositivo veramente ottimo quindi anche in questo caso io l'ho collegato a un PC e l'ho potuto utilizzare tranquillamente ora vi mostro avete potuto notare che è facilmente comunque usabile anche se il monitor è un 13 pollici e 3 comunque qualora siate in giro torna utile per collegarlo a vari dispositivi per esempio siamo magari anche in una sala server e non abbiamo la possibilità di accedere al server perché non abbiamo un monitor e quindi non possiamo accedere alla parte grafica e quindi mettere le mani sul sistema operativo in questo caso qui magari colleghiamo questo monitor e quindi risolviamo il problema io ho provato anche a giocare su questo monitor ovviamente sfruttando l'APU del 344G del mio A300 e tutto sommato anche in questo caso qui non superavo i 60 frame per secondo e quindi comunque riuscivo a giocare tranquillamente quindi che dire ottimo prodotto prezzo contenuto sicuramente merita di essere preso in considerazione visto comunque quello che ha da offrirvi è il suo reale è il suo reale comunque valore rispetto a quanto lo pagate la dotazione ripeto non è affatto male perché comunque vi danno la cover e tutti gli accessori quindi tutto sommato vale la pena provarlo spero che il video possa esservi utile in qualche modo se avete domande potete tranquillamente scriverlo nei commenti è tutto qui ci vediamo alla prossima